La giunta pronta a un tour in Pullman per i quartieri di Pescara. Sì, questa è un'iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale che abbiamo lanciato oggi e quindi vi ringrazio anche per la disponibilità che ci date. È un'iniziativa che vuole fare in modo che la politica e l'amministrazione comunale di una città sia sempre più a contatto con la cittadinanza. È per questo che saranno i cittadini stessi a segnalare alla Presidenza del Consiglio Comunale le varie situazioni che vogliono che vengano vagliate dalla giunta al completo. Ma insieme alla giunta ci sarà naturalmente il sindaco, ci saranno naturalmente i dirigenti e ci saranno naturalmente anche i giornalisti che potranno scegliere tra le prime segnalazioni pervenute alla Presidenza del Consiglio. Tanti quartieri da visitare, ci sono criticità in alcune zone di Pescara, microcriminalità ma anche problemi di traffico. Insomma, molti residenti si sentono un po' abbandonati dalle istituzioni. Aggiungerei anche l'inquinamento e poi altri tanti problemi ed emergenze storiche della città di Pescara. Però è utile che la giunta sia a disposizione dei cittadini, che abbia soprattutto uno sguardo di insieme sui vari problemi della città ma che anche i cittadini capiscano e conoscano dalla viva voce degli assessori, del sindaco e dei dirigenti, quali sono i tempi e i costi necessari per ciascun singolo intervento. Per questo la Presidenza del Consiglio Comunale ritiene di fare questa iniziativa che possa essere il più possibile da tramite tra la cittadinanza e l'amministrazione locale. Presidente, il caso di dire che la politica scende in strada? La politica migliore è quella che scende in strada a contatto con i cittadini. Io ne ho fatto il mio testimonial della vita politica, penso che tutti dovrebbero fare così. Ma soprattutto ritengo questa iniziativa, le voglio sottolineare nuovamente, che possa essere molto utile per spiegare anche alla cittadinanza quali sono i veri problemi che ha una giunta e un'amministrazione ad affrontare tutte le situazioni che vengono segnalate.